Manifestazioni di interesse imprenditoriale, anche di alto livello, sono già arrivate. Per il rilancio industriale di Porto Marghera, il Comune di Venezia conta molto sul bando che mette a disposizione delle imprese, terreni bonificati o in via di bonifica per un totale di 64 ettari attraverso una collaborazione che, oltre a Caffarsetti, vede i protagoniste l'Agenzia per lo Sviluppo e Sindial, la società del gruppo Aeni che opera nel campo del risanamento ambientale di siti petrolchimici e minerari dismessi. Noi chiediamo sostenibilità e posti di lavoro e occupazione. Queste aree sono molto appetibili a Porto Marghera, per cui invito tutte le imprese, grandi o piccole, a vedere il bando pubblico che avrà pubblicato. Sceglieremo le migliori occasioni di lavoro, le migliori occasioni di investimento e Sindial passerà direttamente le aree a questi investitori, aree che sono già state bonificate o sono già in corso i lavori di bonifica, per cui tempi e costi certi che è quello che l'investitore cerca. A Caffarsetti, alla firma del protocollo d'intesa per la riqualificazione e il rilancio di Porto Marghera, si respira un'aria di ottimismo. Il polo veneziano può attrarre qualunque tipo di investitore, è un sito infrastrutturato, logisticamente localizzato in modo felice, al centro di una delle aree più dinamiche del paese può attirare qualunque tipo di investimento. Quali saranno le tempistiche poi per vedere i primi risultati? Io mi auspico che i primi risultati si vedano nel giro di mesi o pochi mesi o qualche anno, non di più. Porto Marghera è stata dichiarata dal governo area di crisi complessa, un riconoscimento che potrebbe aggiungere un fattore di ulteriore attrattività per gli investitori. L'area di crisi complessa infatti prevede che proprio attraverso Invitalia e il MISE siano stati stanziati per il momento 26 milioni di potenziali finanziamenti a fondo perduto, finanziamento agevolatissimo, per cui ovviamente anche chi viene ad acquisire area, a fare un investimento progettuale su Porto Marghera avrà anche la possibilità di avere dei buoni investimenti alle spalle che arrivano dal governo e da Invitalia.